ciao amici oggi vi parlo di un mio recente acquisto e piccola premessa ho fatto utilizzato per tanti anni solo pc portatili e volevo tornare all'utilizzo di un pc fisso e come visto che le mie esigenze prevedevano un qualcosa di piccolino mi sono subito orientato sul mondo dei mini pc ora universo dei mini pc sto proiettando quello che trovo su amazon ricercando mini pc è un universo un pochino caratterizzato da macchine che hanno che sono si compatte come vedete però sono tutte caratterizzate da poca potenza perché in alcuni casi hanno processori celeron in altri casi hanno processori e anche intel non celeron ma i 3 i5 vecchiotti stesso discorso per ciò che riguarda il mondo dei processori amd che sono un pochino vecchiotti vediamo se ve ne faccio vedere uno proprio al volo ma in generale mi ero deciso di procedere nel costruirmi da solo la macchina che dunque avrei acquistato un cabinet grossomodo così di questa tipologia perché lo devo nascondere dietro il mio schermo e avrei montato l'hardware ma ero indeciso tra un intel dundicesima generazione magari verosimilmente un i5 almeno e mondo ryzen invece il 5.6 g oppure il 5.7 g quindi rezen 5 rezen 7 con grafica integrata in realtà tutto questo spiegone è venuto a cadere quando nella mia ricerca mi sono imbattuto in un acer in particolare nell'acer x 26 80 g questo mini pc che in pratica vi faccio vedere in foto ma poi farò un articolo dedicato a un cabinet che era esattamente come serviva a me quindi di questa dimensione questo form factor è perfetto per perché ha tante porte ed è bellino oltretutto e si incastra esattamente dietro il mio monitor e e poi cosa interessante è dotato di un intel di undicesima generazione di un i5 che è 6 core 12 thread dunque un computer che aveva tutte le carte regola per fare al caso mio quindi bello potente e compatto avendolo trovato poi a meno di 400 euro diciamo che è stato amore a prima vista l'ho preso e è quello che sto usando per fare questo video sto registrando con il classico obs studio avvalendomi di un monitor 4k quindi il peso del programma di registrazione sulle performance si in teoria si sente dico che si vede perché vi faccio vedere in occt che un tool di monitoring del di ciò che accade nel computer come la cpu sia tanto sotto torchio quindi arrivi quasi al suo massimo tdp 65 watt e in pratica non sto facendo niente se non registrando lo schermo ora come è fatto questo pc vi faccio vedere un po c più z quindi come ho detto all'inizio un intel i5 11400 65 watt di tdp massimo con 6 core 12 thread memorie ahimè solo 8 gigabyte e ahimè solo in single channel perché sono una barretta di ram sebbene siano indicati quattro slot siano riconosciuti più che altro da cpu z a quattro slot di ram di disponibili ce ne sono solo due perché gli altri due non hanno in pratica lo zoccoletto per inserire la barra di ram vi metto poi vi faccio vedere tramite delle foto quello che ho scoperto aprendo il case ma comunque la scheda madre presenta un certo numero di porte perché c'è una pci express 16 2 pci express 1 per poi c'è una pci normale quindi monta poi un hard disk avvieni 256 giga che va bene anzi vi faccio vedere pure dei test che ho fatto utilizzando questo hd tune utilizzando l'hard disk quindi anzi vi faccio vedere un po di schermate relativi a test che ho fatto chiaramente senza utilizzare la registrazione come sto facendo adesso e che hanno quindi avuto modo di utilizzare appieno la potenza disponibile del computer senza strozzamenti come in questo caso quindi queste le performance di hd tune poi troverete tutti questi dettagli anche nel nell'articolo che pubblicherò e lascerò il link in descrizione e poi ho fatto anche girare 3d mark chiaro non avendo una cpu dedicata il risultato complessivo è bassino ma quello che mi interessava era tirar fuori il numerello qui c più score altri dettagli sempre di 3d mark questi sono invece i dettagli della ram quindi dicevo 8 giga da 3 un modello a 3200 megahertz con cl 22 vediamo altre foto interessanti a è così anche benchmark di tomb rider quello integrato in rise of the tomb rider e stesso discorso in quello nel più nuovo shadow of the tomb rider il cabinet di questo pc come vi dicevo è veramente piccolo mi sta tranquillamente dietro il monitor e questo è quello che me l'ha fatto preferire ad altri oltre al prezzo che ho trovato in offertona e mi dico pure che ho fatto dei test con hand break quindi il programma di codifica video e strano a dirsi non me l'aspettavo però è stato nella codifica di un film di un filmato in 4k proprio vi lascio il link al video è più veloce questo processore così com'è quindi con ram in single channel è stato più veloce di un macbook air con chip m1 quindi vabbè di poco però è stato più veloce è stata una gradevolissima sorpresa e ha stracciato un ryzen 7 sul su un portatile on 3700 u non so come gli è venuta in mente vabbè sarà stato di sicuro per un discorso di costi però utilizzare le ram in single channel secondo me è un grande spreco quindi una la prima cosa che farò sarà montare altri 8 giga sul secondo canale ram che ho disponibile in maniera tale da misurare anche incremento di performance che di sicuro mi aspetto non so di quanto però rifarò questi stessi test che pratica farò questi tutti gli stessi test che avete visto adesso però con i 16 giga in dual channel questa è la parte posteriore del case come vedete ci sono tante porte dietro e cosa interessante che mi piaceva e infatti stavo cercando un case fatto nello stesso modo di questo sono le porte che ha sulla parte anteriore quindi oltre al cd rom invece del lettore dvd vabbè anche masterizzatore non lo userò mai però c'è va bene ci sono c'è lettore di schede che invece uso tanto e le porte poi audio altra cosa l'ho aperto e ho verificato un pochino quali fosse quale fosse la componentistica dentro il metto in solo impressione delle foto così vi fate pure un'idea cosa interessante che l'alimentatore di 180 watt è piccolino sì però ho fatto un test di consumo e il sistema pieno carico diciamo in fase di gioco non dovrebbe consumare più di 80 watt volendomi impegnare proprio tanto come vedete poi nel video che vi lascio sono riuscito a farlo consumare costantemente 90 watt per una forzatura diciamo che in un contesto normale non si dovrebbe verificare quindi con un alimentatore 80 watt plus bronze dovremmo avere un margine di potenza ulteriore da poter utilizzare per l'aggiunta di una scheda grafica a basso consumo quindi pensavo a una 1030 magari quella da 2 gigabyte monta quella con ddr5 poi visto il form factor volendo concedersi eventualmente a qualche piccolo ulteriore upgrade si potrebbe per esempio valutare la sostituzione dell'alimentatore alimentatore con che ha un formato particolare perché è un alimentatore che si chiama tfx se non vado errato questo qui e in pratica sostituendo l'alimentatore di default che 180 watt su pochi con un alimentatore più prestante almeno di 300 watt per esempio questo un 73 euro costano un poco vabbè o 55 insomma una roba di questo tipo abbiamo modo ve lo lascio vi lascio nei commenti poi tutti i link abbiamo modo di montare eventualmente poi anche una scheda grafica qualora vi interessasse la cosa visto che insomma il gaming tira tanto in questo periodo una scheda grafica anche sempre di tipologia low profile quindi di quelle piccoline però un pochino più prestante della 1030 quindi o la 1050 questa qui vedete che c'è low profile perché stretta quindi adatta per il montaggio su mini pc in realtà c'è anche la staffetta che in alcuni casi viene fornita in questo caso non vedo che fornita però trovate a 10 euro il bracket lo trovate su una zona 10 euro oppure la 1050 sempre low profile e questa qui è che però diciamo queste sono più potenti della 1030 però non tdp pure più alto dovrebbe essere sui 70 watt 85 mi pare e quindi necessitano di un alimentatore più potente come quello che vi ho fatto vedere in precedenza chiaro che comunque il sistema è è una base buona quindi qualora poi vogliate fare ulteriori modifiche spazio alla fantasia quindi mettete tutto in un case grande e potete montare alimentatore standard schede grafiche standard quello che volete perché comunque si tratta di un processore veramente che assolva tutti i compiti quantomeno quelli più comuni home office già così va bene quindi non so word navigazione powerpoint piccoli quello che volete per l'uso che fa il 90 per cento delle persone anche così come esce dalla dalla scatola va benissimo poi se siete un po smanettoni io per esempio ho comprato già la ram quindi la monterò a brevissimo e poi tutto il resto verrà da se vediamo se e quanto voglia avrò non credo di montare nulla di in ambito gaming però vi lascio comunque le considerazioni che vi sto facendo nell'articolo con i relativi link al solito se avete dubbi suggerimenti o altro lasciatemi nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile ciao a tutti